In casa deteneva un vero e proprio arsenale costituito da pistole, revolver e molte altre armi, quasi tutte costruite da lui. E' con l'accusa di detenzione di armi senza le necessarie autorizzazioni che i carabinieri di Capannori e Villa Basilica hanno arrestato un pensionato di 72 anni, residente all'Unata. I militari sono intervenuti dopo alcune segnalazioni e le relative indagini. Poche ore fa il blitz nella casa dell'uomo dove hanno rinvenuto una carabina, 12 pistole semiautomatiche, 5 revolver, un pugnale con la lama da 29 centimetri, un pugnale da incursione, vari silenziatori, tre matite sparanti, quasi tutte armi da lui realizzate. E ancora un lanciarazzi e centinaia di munizioni. In casa il pensionato aveva realizzato un vero e proprio laboratorio dove costruiva le armi partendo da pistole giocattolo o ad aria compressa. Dietro l'abitazione anche un piccolo poligono dove le armi venivano collaudate. Ancora tutti da capire i motivi che hanno spinto l'uomo a realizzare questo arsenale. In attesa del processo il 72enne si trova agli arresti domiciliari.